Ciao, io sono un fail umano e questa è la Impact Flux, ciao, benvenuto tu che sei qui dal posti più remoti del mondo Ho appena scoperto che non ho fatto abbastanza legna, però in teoria questa mi serve comunque, quindi grazie mille amico mio Voi direte Ulisse, come mai non hai fatto questo in altanta legna? Perché qui non ci sono i chunk loader E cosa ho messo per superare i chunk loader? Ho messo le ancore, ma le ancore quanti chunk le sono a superare? Uno, bravi, avete risposto bene Se avete risposto bene siete persone orrende, però rimane il fatto che io ho bisogno di un'altra ancora, quindi ancora, 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 ancora E non ho abbastanza ossidiana, yeah, però so dove prendere un'altra ancora Mmm, ancora, eccoti qua Ok, e il nostro caro amico ha affrontato un bel po' di materiali qua se mi servono e basta E telefoni! Ok ragazzi, allora dicevamo, ci serviva la nostra bellissima anchor Che andiamo a mettere sopra? Aspettate che facciamo tutto, facciamo tutto Ulisse non preoccuparti, non essere veloce, non andare di fretta Che poi la gente dice, Ulisse, parli troppo, parli troppo velocemente, fai schifo Beh, grazie, anche io vi voglio bene Allora, mettevamoci queste bellissime cose qua Sperate che devo farmi una farm di enderpearl? Voi direte perché ti serve una farm di enderpearl? Perché sto finendo l'enderpearl, forse Ma è una spada con looting Ma chi se ne frega vuole una cosa con enderpearl? Problemi, problemi, penso di sì, non ci sono problemi Allora, devo fare chissà che cosa oggi Devo andare avanti con un paio di cosette E un bel po' di legna E quindi andremo a factory tuning Voglio finire sta benedetta cosa da 64 E ci vorrà un'eternità fare sta cosa, non ci sono dubbi Mi servono 8 di 8 Oh, viva l'8 di 8, ok Survivalist, ok, mi servono tipo 8 di questi Giusto o no, mi servono 64 What? Ok 3 pistoni, mi serve della legna Ok, aspettate che trasformiamo tutto Ok, legna, 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 legna Piston Ok Bam, abbiamo uno stack di pistoni Felici? Io sì Ok, pistoni Poi survivalist Cos'è che mi serve? Mmm, tanta cobblestone 64 fornaci, bam Fatto Abbiamo già tutto, vedete Wow, mi sembra troppo bella questa cosa Poi in teoria non servono 64 Ne servono un po' meno Però che se ne frega Facciamone un po' di più Che se ne frega totalmente Oh, 64 survivalist Yeah E mi servono transfer node E qua cosa serve? Hyper transfer node Oh, ce l'ho un vectorium Ce l'ho un vectorium Ce l'ho un vectorium Queste sono pesanti però Ehi Transfer node Eeeh Non ce l'ho un transfer node Faccio un po' di transfer node ragazzi Aspettate Ok ragazzi con le nostre super doti Siamo riusciti a farne 4 di questi cosi Voglio levarmi sto vectorium subito Ah Al cacca Ok Transfer node Hyper energy Dan 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 Ho fatto tipo un sacco di questi Bread first Quelli che sono insomma Eeeh Sapete che cosa? Niente Non sapete niente ragazzi Voi siete persone orrende Non sapete avrò niente Perché Io non ho fatto ancora Che cosa? Al di transfer node Dai Ufff Mi servono Ender pearl Mi servono transfer node Mi serve tanta roba Quindi Arrivo subitissimo Ok Sono pronto Sono pronto Anche a prescindere che perdo vita Ogni volta che vado nel land Io questa cosa la odio tantissimo Va bene Sono pro No 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 Ok Pensavo fosse pieno Ok Survival list Eccoli qua Perfetto Facciamone 7 1 2 3 4 5 6 E 7 Oh mio dio Ulisse Finalmente Hai fatto E' vero Ne erano di me Non devo farne 8 Devo farne Non ho fatto un in più Va fa nulla Ok Hyper Ufff Fatto Missione completed E mi da Molta roba Ufff Clorofilla Non so se serve Nender pearl Mi servono Forse Mh Ah no PQ Scusa No vabbè Vabbè Due me ne servono Due Due Monca Quanto vado con sti cosi Aspettate Ma voglio vederlo Cioè Scusami Dammi Call Io dover Un attimo vedere Com' quanto dura 320 power 13 minuti Mi da Un bel po' di energia Probabilmente Pochissima Però vabbè E' bella Va bene Grazie mille Per l'energia Sei molto utile Quanto tipo Niente Ah però Stai ragazzi Sapete cosa Non l'ho fatto Ancora Questo Resonant Resonant Ho delle ender pearl Adesso Quindi possiamo Farci Resonant Resonant Enderium Ce lo dobbiamo avere Tutto necessario Vediamo un po' C'è un soldo Questo Lumium Questo è il lumium Si fa Pulverate Silver E che altro Tutti mi servono Enervation Electrum Questo è tutto Necessario Penso Non ho proprio Una mazza Non ho proprio Yeah Viva l'electrum Non ho fatto Per nulla Mai questo Va bene Silver No silver Cioè lo faccio Sicuramente Però non ho preso Mai Ste cose Silver Gold Ti prendiamo qua Guarda questo L'avevo aumentato Tipo velocità Non sbaglio No non ho mai aumentato Sta velocità Vabbè fa nulla Comunque Se è carino Comunque E Appena mettiamo Ste biometric card Ste cose qua Ottimo Allora Una parte Vediamo di fare Quella parte C'è anche Sta cosa Tipo Che sono Principalmente Customizer Che sono le particelle Quindi sono stronzate Da fare Quindi questa E Questa Ok Questa E questa Che a noi non servono Ehi Cosa manca Ho un lime Davvero Posso fare questo Posso fare No ok Devo fare un pazza Lime Dio santo Non ho lime No dai Non ho lime Flower Che merda Va bene Fa nulla A parte questo Un bel po' di Electrum Ce l'abbiamo E comunque Devevo aver completato Sta cosa Nel particularizer Non so perché Tipo scoppia Ogni tanto Sta cosa Allo sopra Qualcosa Scoppia Oh Meteorite È caduto Sopra casa What Ehi Perché Meteoriti Tu non dovresti Proteggermi Stronzo Ciao ragno Non si preoccupi Lei Siamo tutti felici Ragno dovrebbe Proteggermi Vabbè Però non lo so Perché non lo faccia Abbiamo Uno stack solamente È pochissimo Non so ancora perché Non mi faccio Una spada Pienciantata Perché sarebbe Fichissima Comunque Allora Cosa dobbiamo fare Stavamo dicendo Andiamo a prendere Cinate mosti cose Quanti ne ho fatto E un altro Ne ho fatto Porca cacca Non si può fare così tanto Sono tantissimi Vabbè comunque Cerco di farlo Magari in off camera Per il momento Dunque Electrum Mi servono Quattro di questi Quattro Quattro E quattro Ottimo In mezzo ci va Del ferro Come sempre Uno Due Tre E quattro Enervation Ma sono male C'erano l'enervation Sapete Ci ne ho due Di enervation Quindi ne faccio Altri due Ne faccio So a posto Sì Ok Ah mi serve giusto Come sempre Una cosa che non faccio mai Questo Uno e due Perfetto Altri due Enervation Mi servirebbe anche Dalla glowstone La facciamo Dalla glowstone Uno e due Ok mi servirà Glowstone Quanta glowstone Non c'ho E pochetta Però bastano 16 Centuria Basterebbero 10 Ok forse un po' Di più di 10 Perché tipo Mi servirà Molta più roba Quindi Facciamone 20 Ottimo E li mettiamo nel secchiello Ora Ah qua c'è il Creoteum Facciamo così Ah però Non abbiamo ancora finito Il Creoteum Ah no Abbiamo finito Abbiamo finito ragazzi Creoteum Oh CC CC Era questa Qual è questa Non so sinceramente Facciamo direttamente così Ce ne andiamo giù Aspettate Che facciamo le cose belle Too many things Ok Hot and cold Select task Così Perfetto Fatta E Tada Ok Bam Fatta Finita Completata Ok Come sempre Creeliter Bam Oh Frenzy Lantern Melle come cosa Va bene Grazie Ottimo Allora buttiamoci questa roba Buttiamoci questa Ok Perfetto Sotto quanto Allora Dicevamo 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 Ci serviva che cosa Farci il nostro jetpack finale Jetpack figo finale Quello bello Che nessuno si caga Perché Dicono che è brutto Enderium ingot No Ok Enervation ce li abbiamo Abbiamo bisogno di due di questi Ok Ci abbiamo tutto E Ok Lumium Giusto Mi serviva che cosa Ah mi serviva Solamente sapere Tin dust Ok Tin mi servono Tin Mi servono Tre pezzi Tin Ok ma che è il tin Non lo prendo Non so perché il tin Non lo prendo Va bene Dettagli E Ah giusto Mi servono un attimo Due bucket Bucket Facciamo due liberi Sì abbiamo due liberi Abbiamo anche quattro L'ossidiana Quindi possiamo C'è quattro per fare l'ossidiana Buono Ok Eccolo qua dentro Uno E due Ottimo E macerati qui dentro Ok qui non dovrebbero uscire Perfetto Ok quattro E me ne servono altre due Me ne servono un tin Ok Perfetto Abbiamo un bel po' di Lumium Lumium Mai fatti tipo sti cosi Perché in genere Non ne ho mai avuto Tipo non mi servono mai Ecco perché Ma mi serverebbe anche Un altro pulverized Pulverized Mi sa che bastano sti Lumium No penso di no Ok Tanto che maceriamo Sta cosa Ottimo Oggi ho un mal di schiena Tremendo Questa perché Sto Non sto spaparanzato Sulla sedia Perché tipo Spaparanzarsi sulla sedia È fighissimo Ed è bello E però se non lo fate Avete mal di schiena Tipo così è brutta Ok Allora dicevamo Diciamo dicevamo Jetpack Andiamo Tutto quanto pronto Ma cos'è sta Cosa C'è Dexter Madonna Ok Dovrei avere tutto necessario Speriamo che abbiamo Abbastanza enderium Quello è il problema Più grande Allora Ok No Scriviamo direttamente Jetpack Facciamo prima Ok Jetpack Oh Ok Abbiamo tutto Perfetto Lumium Ce l'abbiamo Oddio Ce l'abbiamo Un paio di lumium Allora Electrum gear Ancora Altri due Ok Due Electrum gear E Resto c'è Un coil Ok Due Uno E due Perfetto Dobbiamo avere tutto necessario Adesso Uno E due Ottimo Ehm Anderium ce l'abbiamo ancora Quindi nice Mi piace qualcosa E tadan Pronto Ehm Giusto Mi manca solamente Tipo la pallina sopra Che è quella standard Che dovremmo Fare dall'inizio Quindi tipo bisogna fare quella normale Ok Quindi questa Ok Ehm Poi questa qua Come si chiamano questi qua Plus capaciteto Capaciteto Ok Capaciteto Trasformato in Questo Ok Trasformato in Questo E ok Trasformato in questo E Namo Che non ci abbiamo il resto Cos'è che serve? Ah Piloteum Ah Meno male Che culo ragazzi Mi hanno avanzato un po' di cosette Mi hanno avanzato Ok Perfetto Jetpack pronto Oh Jetpack Fico Eccolo qua E no Mi servono ancora due Anderium Ehm Giustamente lui dice Devi farmi altro di questo Ehm Questo che si chiama il silver Sono valore Sì silver Ok Tre silver Aspetta che facciamo subito E dovremmo avere un altro bucket Di Anderium Bucket Ok Questo non è un problema Perché tanto ormai Ne ho a bizzeffe qua Faccio la raccolta differenziata Dei bucket Ok Bam Pronto Pronto Prontissimo Ehm Non era silver Ehm Scusami Era tin Samp Quindi tre tin Possibile che la tre tin No Vediamo un po' Uno due Tre Vabbè Controlliamo se l'ha giusto No Oh scusami Anderium Perché mi trolli Perché mi trolli Anderium 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 Blend 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 Sopra Ok Tin tin E shiny ingot Beh Scusa tin tin Ah tin tin e silver Ok Silver Giustamente Giustamente Guarda c'è uno in più Ok Bam Enderium Piroteum Piroteum Dovremmo averlo Piroteum Piropiro Piroteum E' avanzato tipo un altro Ma fare un altro ancora Ok E andiamo qui Bam Abbiamo fatto altre electrum Tipo uscito altre 32 così a caso E tadan Siamo pronti A proposito Nel frattempo Nel frattempo Prendiamo il nostro jetpack Lo mettiamo in mano Shift a su resto Ricordate Bam Leva il coso Questo In forza di Invar Plating Di merda Che non ci servono Ok A posto Jetpack 10 milioni Ragazzi Nice Ok Quest completed Anche E Dove Factory Shining Factory Shining 2 Protection Dusk Dai però Enderium Plate Pure Ok Come si fanno Decenderium Invar Mi serve Enderium Ragazzi Mi serve Mi servono Tipo 16 di questi E 16 di questi Va Ok Sapete che forse Non ho messo Tipo Non ho messo La thing Che mi serve Nel nostro coso Di raccolta Probabilmente si Perché Non me ne ha fatto Tantissimo Quindi sa proprio Che è così Ok Quanti enderium Ci ho Finiti E' finiti Ormai Giustamente Mi dice E quanti Ne vuoi Scusate C'hai pure ragione Mi servono un paio Di bucket Mi servono Bucket Ok Uno Ok 3 2 Quelli che sono Insomma Ok Spero di avere abbastanza shiny ingot Perché se non sono la merda Ma in caso si Penso di sì Shiny 27 Shiny Non ne ha abbastanza Cioè Devo mettere a macerare 3 Comunque Stavano solamente per questo Quindi Non è che Hanno altri utilizzi Ok 4 e 8 Perfetto Va benissimo Piroteo Me ne salvano ancora un paio Ottimo Eccoli qua Perfetto Arrivo subito Appena Ti può mettere A cuocere Queste cose Ok ragazzi Fatto Bam 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 Ok Bam Pronto Perfetto Armatura fighissima Ok Giusto Sono stupido Perché devo fare Così Scusatemi Colpa mia Colpa mia Ok Detection task Ok Fatto Adesso Vabbè Devo fare così Perfetto Fatto Bam Ci prendiamo Ci prendiamo Un miniature red No Direi Un award bag Fatto Ok Siamo pronti Adesso a tenereci Il nostro jetpack Fighissimo Un award bag Gritter Allora ragazzi Ci vediamo nel prossimo episodio Altre friends Che schifo Non ne servono Ste robe E abbiamo però Uno di questo Che Potiene 50 milioni E già ce n'abbiamo uno Ciao ragazzi